L'AMG è una torneria, una torneria di alta precisione e i settori dove praticamente vanno i nostri particolari sono diversi, vanno nell'automotive, nel riscaldamento, nelle valvole, sia gas che comunque c'è il medicale. Quando parliamo di gas e parliamo di valvole medicali chiaramente gli articoli devono essere fatti bene perché la precisione è importantissima in quanto queste valvole chiaramente hanno la necessità di funzionare. L'esigenza delle macchine D-Mac è venuta dal fatto che comunque questi articoli che una volta venivano poi magari montati a mano e dove c'era uno scarto veniva scartata manualmente dall'operatore, oggi non è più così, oggi vengono montati tutto quanto, cioè la maggior parte, tutti in automatico. Pertanto se c'è una tolleranza o se c'è un pezzo fuori misura nessuno più lo vede. Per questo poi abbiamo inserito queste macchine che ci aiutano e ci risolvono questi tipi di problemi, di dare una qualità al 100% perché non ci sono più scarti. Le MCV 5 e la 2 sono delle macchine a controllo velocissimo per quantitativi di pezzi stratosferici anche, si parla di centinaia di migliaia di pezzi che nell'arco di poche ore possono essere vagliati. Sono macchine che a livello di programmazione non sono complicate, sì, sono semplici, molto intuitive. Una volta avuta la prima infarinata generale, capito un po' dove andare a mettere le mani, sono sì, molto facili da programmare. Quello che apprezzo di queste macchine è l'affidabilità. Sicuramente queste sono macchine veloci, sono macchine affidabili, sono macchine anche pulite, ci si lavora molto bene. Ci danno la sicurezza di poter risolvere i problemi che purtroppo nel mondo della produzione a volte si generano e anche di anticiparli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.